Kate Middleton che dall'inizio del 2024 sta combattendo una dura battaglia contro il cancro e scomparsa dalla scena pubblica e ha rinunciato a tutte le apparizioni ufficiali, incluso il Colonel's Review. Questo evento tradizionale coinvolge le guardie reali di cui la principessa del Galles, moglie dell'erede al trono William e colonnello. Non potendo partecipare Kate ha scritto una toccante lettera ai suoi soldati che è stata letta da un militare con grandissima emozione. Nella missiva la principessa ha espresso il suo orgoglio per il reggimento soprattutto in vista del Colonel's Review e del Trooping the Color. Ha elogiato gli sforzi di tutti coloro che si sono esercitati per mesi dedicando ore per garantire uniformi ed esercitazioni impeccabili. Kate ha sottolineato che essere il loro colonnello è un grande onore e si è scusata profondamente per non poter partecipare all'evento di quest'anno chiedendo di trasmettere le sue scuse a tutto il reggimento. Ha concluso la lettera esprimendo la speranza di poter rappresentare nuovamente i suoi soldati molto presto.